Oggi abbiamo avviato i laboratori estivi, è il secondo anno con i migrantes della curia di Agrigento e siamo contenti di poter offrire questo servizio a questi ragazzi. Io penso che le strutture, che sono strutture pubbliche, debbano essere messe al servizio delle collettività, intesa come collettività a tutti coloro che ne facciano richiesta. Bene, noi abbiamo aperto la scuola, è un periodo estivo in cui le scuole normalmente, tranne gli uffici, sono chiusi, non ci sono lezioni, mentre noi abbiamo aperto le aule di questa scuola per far sì che alcuni ragazzi partecipano a laboratori di italiano, a laboratori creativi, a laboratori di informatica, a laboratori di arte, a laboratori di fotografia. Bene, abbiamo alcuni docenti nostri, abbiamo altri docenti che vengono da altre parti del mondo, oppure agrigentini, abbiamo una collaborazione con l'Università anche di Palermo. Bene, tutto questo, stare insieme, ci aiuta e dà una prospettiva, aiuta e dà una speranza a tanti ragazzi che oggi arrivano in Italia. Io penso che l'Italia, inteso come Stato, inteso come Stato vuol dire inteso come i cittadini, l'insieme dei cittadini, è uno Stato accogliente. Così è stato l'Italia, così si conosce nel mondo l'Italia, in particolare la Sicilia, così io penso che dobbiamo continuare a conoscerla e a rivederla. Ecco l'appello fatto dall'Arcivescovo di Agrigento l'altro giorno, dal Cardinale Montenegro, io lo condivido pienamente. Noi non possiamo tenere sequestrati su una nave persone umane. Qui diceva bene l'Arcivescovo, se c'è un cane che da solo si cerca di accudirlo, non è possibile lasciare persone in questo Stato. Io penso che dobbiamo rivedere, penso che sia giusto che non sia solo l'Italia a farsi carico di questi problemi. E' però da qui a bloccare una nave, tenere delle persone sequestrate in mezzo al mare, penso che sia tanto la distanza. Siamo alla seconda edizione dei laboratori estivi 2018 che comprendono una cinquantina di ragazzi delle comunità di accoglienza. L'iniziativa è nata in collaborazione con il CPA, con il servizio Migrantes di Ocesano e con la comunità delle missionarie secolari scalabriniane. Ed è nata dalla constatazione che l'estate è un periodo vuoto per i ragazzi delle comunità che hanno invece molte risorse e hanno il desiderio di imparare, di apprendere, di trovare un lavoro. Quindi queste tre settimane di laboratori, insieme a dei volontari che vengono dalla Germania, che vengono da altre parti d'Italia, anche dalla Sicilia, sono un'offerta di possibilità per l'apprendimento dell'italiano e di elementi di alcune discipline, come per esempio l'informatica, oppure la fotografia, oppure l'attività creative, manuale creative. L'edizione precedente, l'anno scorso, è stata veramente un grande successo perché il metodo adottato non è quello cattedratico, comunque frontale, ma si avvale della collaborazione di tanti per un apprendimento reciproco.